Ciao, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Kronos e questa è la rubrica espresso più tarocchi. Un consiglio per la giornata di oggi, venerdì 7 ottobre. Andiamo a vedere quindi col mazzo della nuova Sibilla. Che cosa, come sai, il venerdì uso gli oracoli o le Sibille e non i mazzi di tarocchi. Che cosa ci consigliate per la giornata di oggi, venerdì 7 ottobre. Quindi 7, il vedovo, solitudini e rimpianti. 5, 6, 7, 8, 9, 10, quindi di ottobre. I menu, buoni affari, beneficio. 21 e 22. Il militare, un segreto o una forza fisica. Allora, considerando che di per sé le carte danno già un consiglio, la carta della Sibilla, per esempio, dà come consiglio attorno alla carta del vedovo di non fuggire alla solitudine, ma di usarla come opportunità per avere uno sguardo più lucido sul mondo. La carta di Imenio dice di fare un primo passo e la carta del militare parla di riuscire a identificare le basi di una situazione, quindi anche le cause di una situazione. Quindi qua potrebbero veramente anche farci una previsione, in maniera forse molto rudimentale a livello di consiglio sarebbe che qui ci potrebbe, che poi la carta dell'Imenio è un po' particolare, perché è una carta che spesso e volentieri porta dei ribaltamenti, porta un po' dei rimescolamenti anche del caso, è una carta di beneficio tratto dal caso, dalla fortuna. Quindi qua potrebbe parlare anche di una rivelazione che ci permette di vedere con un altro occhio una qualche situazione e quindi anche di trarne in un certo senso vantaggio. Quindi già questo potrebbe essere una prima interpretazione, una situazione che magari al momento ci vede un po' spaisati, un po' spersi, non sappiamo che soluzione trovare, grazie a un'improvvisa ispirazione riusciamo ad andare alla radice di un problema e ad eliminarlo. Questo potrebbe essere una sorta di predizione, non sarà per tutti, però te la butto lì. C'è anche da dire che queste tre carte, proprio per questa predizione, vanno secondo me anche a dare proprio un consiglio che potremmo evincere così, laddove io ho qui una solitudine intellettuale o in alcuni casi fisica, un'ispirazione, quindi ho una qualcosa che nasce dall'integrazione con un ambiente, anche con delle persone se si tratta di solitudine intellettuale, che io posso riassumere come l'ispirazione della centratura. Qualora manchi quella, qualora io manchi di centratura su me stesso, probabilmente non riuscirò a fare un'operazione per cui la mia visuale riesce ad andare oltre quelle che sono un po' gli orizzonti momentanei, quindi magari non riuscirò ad andare alla radice di un conflitto, ma vedrò solo il conflitto, ipotesi, oppure non riuscirò ad andare alla radice di un problema che mi si sta opponendo, ma vedrò soltanto il problema, non vedrò il nocciolo vero della questione. Ecco qua ti dice la centratura su te stesso e anche quella che ha un po' di solitudine intellettuale, pur se in mezzo alla folla ti permette di andare alla radice delle cose e di riuscire ad eliminare la maggior parte dei problemi. È una cosa vera che ho riscontrato, perché alla fine spesso e volentieri noi guardiamo i problemi. Non ho il fidanzato, non ho la fidanzata, non ho i soldi, non ho l'auto, non ho la possibilità di comprare questo, non ho la possibilità di fare quest'altro. Già, ma perché non ce l'hai? Non ce l'hai perché il destino è cattivo? Non credo proprio. Non ce l'hai probabilmente perché un qualche tipo di disequilibrio con quell'idea devi ancora risolverlo. Nel momento stesso in cui tu abbracci, ad esempio in amore, questa cosa è una delle leggi quasi, direi non scritte, nel momento in cui tu abbracci l'idea di amare te stesso o te stessa, l'universo ti inonda di potenzialità e quindi ti fa anche trovare la persona giusta. Nel momento in cui, come dicevo ieri, abbracci l'idea che il denaro è un mezzo, non un fine o che comunque il benessere è una cosa che è giusto che tu abbia perché in quanto persona biologicamente uguale a chiunque anche tu devi avere le stesse opportunità, però non la vivi in modo conflittuale, quindi ti armonizzi col circostante, è chiaro che ti viene reso tanto dall'universo. Quindi anche quando mi dicono ma io sto proiettando all'universo è benessere, ma lo fai in modo giusto o lo fai in modo sbagliato? Perché se lo fai in modo giusto ti torna e anche subito. Se lo fai in modo sbagliato, ovvero se ci proietti un'intenzione creata da una dipendenza, è chiaro che l'universo ti risponderà con un'intenzione che ti crea la dipendenza, ti risponderà pari pari a quello che tu gli hai proiettato. Quindi ecco perché spesso e volentieri non funzionano. Se io proietto il mio bisogno, faccio capire che quello è il mio stato. Lo so che può sembrare una cosa un po' a tinta new age fra l'altro, che poi esiste un ramo di tutto rispetto della new age, ma può sembrare anche una cosa che non sta in piedi perché dice ma come io ho bisogno di una risorsa, proietto l'intenzione all'universo, l'universo mi dovrebbe dare. Sì, dipende da come la proietti, perché se la proietti con conflittualità verso quella risorsa, se proietti una voglia di amore, ma hai un conflitto con l'amore, l'universo ti risponderà con un amore conflittuale. Se proietti una richiesta di denaro, ma hai fondamentalmente l'ossessione del denaro, l'universo probabilmente ti darà anche denaro, ma sarà un denaro che in poco tempo dovrai spendere per altro. Quindi in realtà bisogna fare attenzione anche qua, prima di chiedere, un po' ci sembra, sembrano dirci anche queste carte, prima di poter risolvere un problema, bisogna andare alla radice del problema, bisogna capire come mai, perché è più costruttivo, tornando sul discorso dell'amore, chiedere l'universo, di sanare il proprio concetto di amore, di armonizzare il proprio concetto di amore, di amare se stessi e quindi di riflesso, vedersi poi spalancare le porte di molte opportunità, che chiedere un partner che poi si rivela non adatto a quella che era la nostra richiesta o non adatta a quella che era la nostra richiesta. Quindi un po' questo è il consiglio che ci danno di oggi, chiedi, ma con consapevolezza, scegli di risolvere le situazioni che stanno attorno a te, quindi impegnati, chiedi all'universo, datti da fare, armonizzati con l'ambiente, ma sempre con consapevolezza, cioè con la consapevolezza che non devi guardare alla carenza, ma che cosa ha causato la carenza? Perché se guardi alla carenza, la carenza verrà compensata, ma in poco tempo tornerà ad essere una carenza. Questo è un po' quello che secondo me come consiglio stanno dicendo. Io invece non ho carenza di espresso, almeno di quello non ce l'ho, e quindi me lo vado a gustare fra pochissimo, ti auguro una bellissima giornata e un bellissimo fine settimana, ci vediamo lunedì con la rubrica espresso e tarocchi e nel weekend con il nuovo interattivo. Ciao!